Nel 2019 le persone arrestate sul territorio di Napoli e provincia sono state circa 5.200, 15.000 quelle denunciate e i delitti sono calati quasi dell'8%. E questo è il bilancio dell'attività dell'arma dei carabinieri stilato dal comandante provinciale di Napoli Giuseppe Cagno Lagala nel corso del tradizionale incontro di fine anno con la stampa e le tv cittadine. Ai giornalisti il generale Lagala ha elencato dati e numeri dell'operato dei militari sul territorio del capologo campano, attività che hanno determinato, ha detto Lagala, calo di furti e rapine e permesso di risalire agli autori di tutti i fatti di sangue che si sono verificati nell'ultimo anno. Non c'è stato fatto di sangue quest'anno che non abbia visto e non abbia avuto una risposta determinante dall'autorità giudiziaria e dalle forze di polizia. Questo grazie anche al fatto che tutti i vari fatti sono comunque stati inseriti in indagini in corso o c'erano già delle attività precedenti e quindi chiaramente sono state contestualizzate in attività investigative pregresse.